Fiat celebra un periodo d'oro del nostro paese gli anni 60 con 500 dolce vita, potenza precisione design tedesco, Mercedes alza l'asticella con le nuove A e CLA 45 MG, in casa Skoda una superb tutta nuova. Il 4 luglio non è soltanto la data della festa di indipendenza americana in casa Fiat, il quarto giorno del settimo mese dell'anno rappresenta infatti il compleanno della 500, un'icona capace di far innamorare negli anni decine di generazioni. La casa quest'anno ha deciso di celebrare la ricorrenza con una versione speciale, si chiama 500 dolce vita e come si può immaginare vuole fare rivivere un periodo storico unico per il nostro paese, quello degli anni 60, disponibile nella versione cabrio berlina con tetto in vetro, si caratterizza per alcuni tocchi di classe che non passano di certo inosservati. All'interno la plancia in legno nautico, i sedili in pelle Frau colore avorio con bordi e logo 500 ricamati. La 500 dolce vita amplia, la collezione di oltre 30 serie speciali nate negli ultimi 12 anni che hanno contribuito al successo del modello leader in Europa nel suo segmento. Da due anni è l'auto più venduta di FCA che di recente ha raggiunto il record di 3 milioni di unità vendute in Europa, la nuova gamma 500 disponibile da 149 euro al mese e soltanto a luglio sarà possibile avere la versione cabrio allo stesso prezzo della berlina. La parola d'ordine è alte prestazioni alla quale si affiancano, dinamica di guida unica e sorprendente, un design a dir poco cattivo, sono i tratti distintivi delle nuove MG A45 CL A45 sportive compatte di Mercedes, vetture che si confermano ai vertici della categoria proseguendo la tradizione di successo del marchio tedesco e battendo nuovi e strabilianti record. Il motore da 2 litri completamente riprogettato è in assoluto il più potente 4 cilindri turbo mai costruito per la produzione in grande serie ed è disponibile in due livelli di potenza. Già la motorizzazione di ingresso da 387 CV è più potente di 6 CV rispetto al modello precedente, la versione MG S con 421 CV si spinge in una categoria di vetture decisamente superiore. Il nuovo cambio a doppia frizione a 8 marce assicura accoppiamenti perfetti, in qualsiasi situazione cambi di marcia di pochi millisecondi, la trazione integrale attiva completamente variabile e ripartisce la forza in modo selettivo tra le ruote posteriori mediante l'HMG Torque Control assicurando massima trazione con tanto di drift mode. A tre anni e mezzo dal lancio della terza generazione Superb l'ammiraglia di Skoda viene ampiamente rivisitata. Per la prima volta il modello top di gamma viene proposto anche nella versione Scout verso la fine dell'anno come ibrido plug-in. Skoda Superb si conferma ai vertici della categoria per sicurezza e comfort imponendo gli standard di riferimento nel suo segmento in termini di abitabilità. La casa Bohema ha perfezionato Superb e Super Wagon aggiornando ulteriormente la propria ammiraglia con nuove tecnologie e un abitacolo ancora più elegante. Nella primavera del 2019 la terza generazione del modello presentato nel 2015 ha superato il traguardo delle 500.000 unità prodotte con la versione Super Wagon che in Europa rappresenta circa il 54% del totale. Tante le novità dai fari full led matrix ai sistemi di aiuto alla guida più recenti sino all'emergency assist e al front assist con funzione predittiva di protezione dei pedoni, motorizzazioni diesel e benzina. Oltre alla nuova scout il marchio della freccia alata offre Superb anche nella versione sportline mentre Superb LNK con i suoi interni particolarmente eleganti rimane la variante top di gamma.